E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro quotidiano update col Morning With Crypto dove andremo a vedere che cosa, quelle che sono le news di mercato della notte, andremo a vedere i principali gainers, i losers di CoinMarketCap e poi un rapido sguardo alle chart e ai grafici per capire un po' il movimento della notte e cosa ci potrebbe aspettare durante la giornata, ma come sempre prima di partire il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace, e qualora questi contenuti li reputaste utili e interessanti per la vostra analisi, a me aiuta davvero davvero tanto, inutile che lo ripeta, però insomma se lasciate un like e vi iscrivete al canale oltre a ringraziarmi comunque vi assicurate questi contenuti che non sono male insomma per rimanere aggiornati. Dato un'occhiata qui sotto ai link che trovate in iscrizione anche per PrimeXBT, mi avete chiesto per Prime cosa vuol dire 1700 dollari massimo, perché voi fate il primo deposito e vi viene dato il 50% se utilizzate il codice Afterside 50 in bonus trading, il discorso è massimo 1750, ok? Come bonus, tutto lì. Quindi basta, partiamo, vi ricordo alle ore 14 trovate in Premiere i video sulle auction di Polkadot, quindi ricordatevi appunto l'appuntamento c'è anche il pomeriggio, oggi multivideo, non ci fermiamo. Allora, partiamo dall'Australia, perché la principale banca australiana, o meglio la più grande banca australiana ha in piano di aggiungere sulla sua app mobile quello che è l'integrazione delle cripto, ok? Questo ovviamente fa capire un po' quello che è più una curiosità, però chiaro che se lo fa la banca più grande dell'Australia, ovvero la Commonwealth Bank, fa capire quanto il business cripto sia comunque profittevole anche per gli istituti centrali come le banche, istituti classici come le banche. Perché? Perché ovviamente vanno a poter svolgere un ruolo di custodial, un ruolo di accessibilità e un ruolo in cui capiscono bene che gli exchange fanno veramente tanti soldi grazie a che cosa? Alle fee, ok? E loro possono sfruttare tutto questo, quindi più che una notizia era una curiosità, però fa sempre piacere, insomma, vedere queste integrazioni. Il Salvador. Il Salvador, forse avete già sentito questa news, però è interessante comunque riportarla all'interno appunto del Morning, perché vista il surplus, insomma, che sta andando a fare dal suo fondo, no? Sappiamo bene che il Salvador sta continuando ad acquistare, man mano, con DCA classica, quindi un dollar cost average fondamentalmente classica, i suoi primi bitcoin, facendo i suoi buy the dip. È andato comunque a generare un surplus. Questo surplus lo utilizzerà per finanziare la costruzione di 20 scuole all'interno del paese di El Salvador, il che è molto molto bello come situazione perché fa comprendere come effettivamente può aiutare anche, no? Per scopi umanitari, per scopi legati proprio alla qualità di vita, alla qualità della vita, esatto, della cittadinanza salvadoregna, quindi capite come bitcoin, no? Adesso comunque passi anche come un investimento che possa portare del profit per migliorare la vita dei suoi cittadini e credo che faccia parte comunque anche di un'idea di base, no? Che vuole utilizzare El Salvador per far capire che questo investimento può migliorare davvero le loro condizioni e possa quindi bitcoin, per virgolette, salvarli un po' da quello che è il depreciamento della valuta classica, che non serve che vi dica io, insomma, si sa bene come sono quelle dinamiche, soprattutto per una situazione come El Salvador che non avendo la moneta propria va comunque a utilizzare monete esterne, quindi è ancora peggio. Basta, passiamo a Shiba, perché Shiba, avevamo parlato tempo fa di un wallet, un wallet che deteneva un sacco di Shiba e soprattutto erano dovuti a un investimento fatto nel 2020, ad aprile 2020, dove appunto questo wallet aveva svoltato 8000 dollari in circa 5.7 billion, ok? Qual è? Qual è il discorso di tutto questo? Che gli 5.7 billion ora si sembrano muovere, ok? All'interno appunto questo address, in realtà si faccia un po' di speculazione sul fatto che fosse un address su cui non ci fosse più accesso, a cui non si avesse più accesso, in realtà non è così, l'accesso c'è e come i fondi stanno iniziando a muoversi e questo ha portato comunque a una contrazione un po' del prezzo di Shiba, dovuto al fatto che questo address contiene il 13% di tutta la circulating supply, ok? Vi lascio immaginare cosa succede se dampa. Quindi attenzione, attenzione a questi campanelli d'allarme perché sono molto pericolosi, ok? Quando c'è un'alta concentrazione nelle mani di un wallet di cui non si sa di chi sia, ok? È ancora peggio perché non si sa in mano a chi sia e cosa voglia farne. Basta, passiamo a quello che è i principali gainers delle 24 ore perché ne abbiamo veramente tanti. Abbiamo Loopring, un più 54, anche Loopring ha fatto una scalata incredibile, più 236 negli ultimi 7 giorni. Hardware, più 39, anche lui ha fatto degli ottimi run, poi si era un po' fermato e adesso è ripartito alla grande. Maker, più 14, Crypto.com, più 13, ne avevamo discusso anche nel video di ieri di Crypto.com. La Kronos Mainnet è alle porte, è una chain che potrebbe veramente dare tanto, stiamo a controllarla, mi raccomando. Anche, vabbè, non vi preoccupate, insomma, anch'io sul canale cercherò di parlarne e di portarvi appunto dei contenuti a riguardo. Comunque, attenzione a Crypto.com, 25 centesimi, veramente è sul suo time high se non sbaglio. Solana, più 12, più 14 settimanale, Solana si è ripresa in un time high pure lei. Ravencoin, più 11, bene. The Sandbox, che continua la sua settimana incredibile, arriva a toccare quasi 3 dollari, 2 dollari 87. Tutto quello che è il metaverso, stiamo capendo un po' come funziona e quanto si imbolla e avanti, insomma, abbiamo veramente tantissimi nomi in gain. Tra i losers troviamo Decentraland, meno 11, scarico direi più che naturale visto il più 242 negli ultimi sette giorni. Chilitz, un meno 7, anche lui positivo, Zcash, Shiba ne abbiamo parlato, Anker, meno 6, Quantum, meno 6, insomma, guardate. Tra chi perde qualcosa è chi ha guadagnato tanto, quindi di per sé, tranne i casi eccezionali, non c'è da preoccuparsene, ok? Passando un pochino a quello che è il movimento della notte, ieri siamo riusciti a chiudere bene, siamo riusciti a chiudere su una soglia abbastanza importante, quella dei 63,2, un po' sotto, quello che sono i 63,7, che erano un po' l'ultimo, diciamo, questo livello di resistenza, e oggi abbiamo aperto con una mini mini doji, ok? Candela un po' piccolina, che non ci dà particolare direzionalità, stiamo andando a capire un po' cosa vogliamo fare, se andare a cercare un po' più di scarico, ricordiamoci che la 12 si trova a 61,6, quindi, insomma, supporti potremmo avere i 63, che sono un po' quelli che ci stanno tenendo un po' a galla, però, insomma, siamo un po' lì nella confusione, direi, di questo pump, non abbiamo un particolare supporto chiave da osservare. Quindi, Bitcoin comunque si mantiene forte, ok? Si mantiene in una fase comunque di cui avevamo un po' discusso dopo questa run, ovvero il fatto che potessimo andare in una sorta di equilibrio, ok? Che può stringersi, ed è un po' quello che il prezzo sta tendendo a fare, e sta portando market cap su quelle che sono le alt, ok? In questo caso, su quelle che sono le altcoin di fase metaverso, ok? Di tipologia metaverso. Vedete come, appunto, la dominance ha invertito completamente il suo trend a contatto con la 200, ne avevamo discusso, ed ora sta cercando di trovare un bottom, ok? Quindi un bottom dove comunque fare un rimbalzo, e vedere se andare a invertire, oppure proseguire il suo downtrend, insomma, facendo un lower high e proseguendo a ribasso. Vediamo, vediamo, perché anche qui stiamo tornando sulle parti basse, comunque, della dominance, una dominance che potrebbe arrivare a contatto, se proseguisse così, con la zona di 42, 42, sì, queste zone qui, il che comunque porterebbe ulteriore confidenza sulle altcoin, ok? Basta, non voglio aggiungere troppo, perché la total continua a salire, e va a fare all time high su all time high, quindi vi fa comprendere come il mercato sia sano e bullish. La total 2 delle altcoin, e inoltre è mai pure lei, quindi vi fa capire come va tutto molto bene. Dobbiamo cercare di tenere un po' di attenzione e di tenere un po' di meno fomo, ok? Più considerazione della situazione e più, secondo me, pazienza, ok? Pazienza, perché prendere i nomi sui pali verticali, ripeto, è molto molto pericoloso. Ma ne approfondiremo tutto meglio questa sera, se questo contenuto vi è stato utile, interessante, vi invito, come sempre, a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, noi ci vediamo appunto domani col nostro consueto morning with, e scusate, diciamo questa sera, con il nostro consueto appuntamento di analisi tecnica, e non dimenticate, alle ore 2 esce il video sulle parachain. Ragazzi, ancora una volta, una buona giornata a tutti, ciao!